Il Comune di Ragusa si mette al passo con i tempi. Ieri sera la CV Cassisi ha approvato l'istituzione del registro comunale dei testamenti biologici. A darne notizia il consigliere comunale Emanuele Di Stefano, il quale sottolinea come l'iscrizione al registro da parte dei singoli cittadini che ne fanno richiesta consente alla conservazione delle dichiarazioni di volontà, denominato appunto testamento biologico, di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui per una patologia grave ed irreversibile non siano in grado di manifestare il proprio consenso e il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita. Nella delibera approvata dal Consiglio si precisa tra l'altro che i cittadini le cui dichiarazioni sono iscritte nel registro devono indicare una persona la quale, a seguito di richiesta, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel registro. L'iscrizione al registro avviene con la consegna di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente o già recante alla sottoscrizione dell'interessato autenticata da soggetto abilitato. Il cittadino interessato può consegnare con le medesime modalità una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito presso un notario identificato delle dichiarazioni stesse. Qualora il cittadino interessato si è fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione può indicare dalla consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa, mentre al caso la consegna deve avvenire nello stesso giorno in cui la dichiarazione è stata resa. L'iscrizione al registro in questione è riservata ai suoi cittadini e residenti nel comune di Ragusa.